Siamo partiti dalla considerazione che purtroppo sempre più frequentemente famiglie con a carico un malato oncologico trapiantato sono costrette a rinunciare alle cure perché non hanno i soldi per percorrere a volte centinaia e centinaia di chilometri. Questa legge appunto vuole prevedere un sostegno economico per tutte quelle famiglie con a carico un malato oncologico trapiantato e contribuisce appunto al pagamento delle spese di viaggio, vitto e alloggio nelle strutture autorizzate per il malato oncologico esse debitamente autorizzate dalle ase di provenienze anche per un familiare accompagnatore laddove persistono dei casi di disabilità molto grave. La nostra legge prevede anche che entro 60 giorni dall'approvazione della stessa deve essere la giunta regionale ad emanare un regolamento attuativo per disciplinare le modalità di accesso sicuramente abbiamo posto come priorità quella di contribuire e sostenere maggiormente chi ha redditi bassi quindi si partirà il settore politica e sociali stirerà alla fine una graduatoria per rimborsare le spese sostenute partendo dal reddito più basso fino a concorrenza delle spese delle somme disponibili. Abbiamo trovato tra l'altro nelle maglie del bilancio del consiglio regionale a nostro avviso una somma congrua per l'annualità 2019 pari a 100 mila euro e abbiamo previsto nella norma di rifinanziare le annualità successive con appositi stanziamenti di bilancio nella finanziaria che si approva ogni anno. Abbiamo scollegato completamente al settore sanitario per questo è un vero e proprio rimborso sociale ai malati oncologici quindi abbiamo creato questo capitolo all'interno delle politiche sociali e quindi la legge è blindata non può essere impugnata una legge fatta bene una legge che i cittadini abruzzesi aspettavano da tanto da troppo tempo noi siamo partiti quando abbiamo pensato ideato questa legge proprio a seguito di centinaia e centinaia di segnalazioni ricevute di cittadini che ci chiamavano col cuore in mano piangendo veramente persone diciamo stiamo rinunciando alle cure non ci possiamo pagare le cure ecco questa è una legge doverosa. Un tentativo nel 2014 però il 21 maggio 2014 a scadenza di legislatura quindi era stata impugnata proprio perché è approvata in quel semestre diciamo così dove non si potevano legiferare queste queste norme e la legge è stata anche sostenuta dall'intero ufficio di presidenza e quindi io credo che verrà approvata nel più breve tempo possibile